Dopo la bomba d'acqua, ai Cerni è cominciata la conta dei danni. Il violento nubifraggio ha creato quasi ovunque disagi e allagamenti, come testimoniano queste immagini girate da Pino Manocchio per isnews.it. Il centralino dei Vigili del Fuoco è andato letteralmente in tilt. Oltre 200 le richieste di intervento per ovviare a problemi più o meno gravi, notevoli disagi sulle strade. Tra i punti più critici, quelli a ridosso delle rotonde del centro commerciale e di Viale dei Pentri. Diverse infatti, le auto rimaste inchiodate in mezzo all'acqua. Lungo Corso Marcelli si è formato un vero e proprio torrente. Problemi come sempre anche a San Lazzaro, nella zona dell'Idol in particolare, dove tra l'altro il supermercato è stato costretto a chiudere a causa di infiltrazioni d'acqua. Pioggia, vento e grandine hanno fatto cadere anche alcuni alberi. In questo video pubblicato su Facebook da Meteo, Isernia e Molise, si vedono i Vigili del Fuoco, mentre ne rimuovono uno che si è abbattuto su alcune auto in sosta in via Carlo Magno, nelle vicinanze del comando provinciale dei Carabinieri. Numerosi garage e gli scantinati allagati, problemi anche in alcuni condomini con l'acqua che veniva giù assecchiate, come testimonia quest'altro video amatoriale. E per non farsi mancare proprio nulla, i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche su un incidente in località Santo Spirito, per fortuna senza conseguenze gravi. Come era facile prevedere, la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città ha sollevato polemiche. Molti allagamenti hanno denunciato i cittadini, sono stati causati dai tombini ostruiti, mentre sarebbe opportuno ripulire al più presto da erbacce e sterpaglie anche corsi d'acqua che attraversano Isernia per evitare i disastri degli anni passati, soprattutto in località Le Piane.